Attenzione! Le voci sono state cambiate apposta per evitare eccessivi spoiler del Grest. Buona visione! Per mille calamari riflitti! Cosa sta succedendo? Oh, avanti, tenata la porta, apriti! Non possiamo perdere nemmeno un secondo o ci sfuggirà di nuovo, dopo tutto quello che ha fatto, dopo il modo in cui si è comportato, dimostrarlo, facciamo evoluzione. Ora! Steven, non c'è traccia del responsabile. L'unica cosa che ci resta da fare, purtroppo, è cercare di individuarlo per seguirlo a distanza. Illusi! Questo non è che è l'inizio. Non potrete mai sperare di sconfiggervi in maniera così semplice. Ho 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 ho! Stai aspettando un treno Sai dove speri che questo treno ti porti Ma non sai dove ti porterà Però non importa Tutto ciò non conta Perché non conta? Perché saremmo insieme Grazie